Nell'ambito della programmazione di Club Service nell'anno 2018-2019 del presidente dottor Giuseppe Mirarchi presso l'Istituto Comprensivo Pascoli Alvaro di Siderno, grazie alla longimirante dirigente scolastica la professoressa Cleia Bruzzi, coadiuvata dal vicario alla professoressa Maria Meduri e dal referente Sebastiano Timpano, si è dato la via al progetto del Rotary Club di Locri per la prevenzione dell'obesità infantile. Gli alunni della scuola sono i protagonisti del progetto, che vede interessato il settore delle attività motorie e della consapevolezza di donne in stili alimentari e che si propone l'obiettivo preventivo di ridurre la problematica sempre più attuale dei giovani in sovrappeso e potenziali candidati per malattie metaboliche e cardiovascolari, specie in età adulta. Il maestro e campione internazionale di arti marziali Vincenzo Ursino, ideatore e leader del progetto, curerà il modulo sportivo, studiato per consentire ai bambini la piena fruibilità della funzionalità motoria e cognitiva del proprio corpo e la gioia di interagire con se stessi e con gli altri in maniera armonica e gratificante. All'insegna della migliore educazione relazionale, tipica della filosofia delle arti marziali, abbinata al sano benessere fisico. Il secondo modulo, dedicato alle corrette abitudini alimentari, sarà curato dal dottor Giuseppe Mirarchi, dirigente medico del Servizio di Prevenzione dell'ASP, e noto esperto delle nutrizioni, che renderà i ragazzi edotti delle pratiche di sana e corretta alimentazione e li guiderà ad intraprendere un percorso conoscitivo proprio in questa fase delicata della crescita. Il programma prevede anche la formazione degli insegnati di riferimento, impegnerà 53 alunni delle quarte classi con la collaborazione della Rotarac di Locri e della Rotary Foundation. Lo stesso terminerà a scuola con la festa dello sport il 29 gennaio prossimo, insieme anche a tutti i genitori dei ragazzi protagonisti del progetto. Infine, giorno 8 febbraio, vi sarà un incontro del Rotary presso l'Hotel President, durante il quale sarà proiettato un video sulle attività svolte in questo periodo, nonché una presentazione della Rotary Foundation. Il tutto terminerà con la premiazione di tutti i bambini che hanno partecipato al progetto. Considerata l'importanza educativa e formativa del progetto, il distretto 2100, che comprende le regioni di Campania, Calabria e territorio di Lauria, di cui è il governatore Salvatore Ioveno, ad aver finanziato l'iniziativa in quanto rientra in una delle aree di intervento internazionale del Rotary. Questo progetto sarà replicato nel tempo in molte altre scuole di pari ordine e grado nel comprensorio, ponendosi come un esempio da amplificare pure con la collaborazione di altre figure delle società civile, della società civile e del volontariato, i quali potranno giovarsi della formazione e dell'esperienza maturata dal progetto iniziale.